...di areradere al suolo a questo paese di merda! Chi vi stava aiutando? Mi direte tutto quello che sapete! Mi sentite sporchi bastardi? Dove avete nascosto le armi? Siete in contatto con gli americani? Pensavate che gli americani venissero a salvarvi? Siete in contatto con gli americani? Siete in contatto con gli americani! non be cool ain't getting through this Scaletta 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 Yeah, just about Well then get off your ass and let's move it Whoa Wolf Grazie a tutti i nostri ammoli che puoi portare, questa è la nostra ultima chance. Grazie a tutti.